Aula 7.5 Costantino favorevole 7.18 D'Ambrosio identico 7.37 Scotto favorevole 7.43 Artini favorevole 7.44 Toninelli ci rimettiamo all'aula 7.32 Centemero contrario 7.7 Costantino favorevole 7.110 D'Ambrosio favorevole 7.23 Fraccaro favorevole 7.112 Scotto favorevole 7.114 e 7.115 come riformulati ci rimettiamo all'aula ok e 7.45 Artini favorevole grazie allora passiamo all'esame e ai voti scusi scotto onorevole sottosegretario prego Scaffarotto grazie presidente i pareri del governo sono conformi a quelli del relatore di maggioranza onorevole Sanna grazie sottosegretario allora 7.17 Fraccaro parere contrario commissione governo relatore forza italia favorevole relatore 5 stelle si rimetta all'aula la relatrice sì è aperta la votazione Blasina Blasina Montroni Giuditta Pini Tinagli ci sono colleghi che non riescono a votare non vedo è chiusa la votazione la camera respinge 7.20